perché fa bene fa bene al corpo perché migliora la postura tonifica i muscoli rende più aggraziati i movimenti fa bene alla mente perché si acquisisce un maggiore controllo del proprio corpo inoltre la danza è rilassante ci si gratifica perché ogni risultato ottenuto è un premio per noi stessi fa bene dal punto di vista psicologico perché aumenta la nostra autostima e la consapevolezza di noi stessi e nel caso di noi donne esalta e migliora la nostra femminilità penso che la maestra simona sia sia una grande professionista preparata competente e appassionata ed è in grado di trasmettere a chiunque segue i suoi corsi il suo sapere e la sua passione per questa bellissima arte la definirei in tre parole professionale competente e generosa io personalmente da quando seguo i suoi corsi mi sono sempre sentita molto seguita nella preparazione incoraggiata, stimolata e supportata anche dal punto di vista morale ma io direi provate lasciatevi coinvolgere dalla bellezza e dalla magia di questa meravigliosa disciplina da quando frequento i corsi di danza orientale con la maestra simona sia personalmente ho avuto molti benefici sia dal punto di vista fisico perché ho fra virgolette curato un problema alla schiena piuttosto doloroso sia dal punto di vista psicologico perché piano piano ho acquisito quella sicurezza e quella consapevolezza di me che mi ha reso una persona più sicura e disinvolta e soprattutto mi ha insegnato ad accettare il mio corpo e a viverci bene se lo rifarei sono sei anni che lo rifaccio e non vedo l'ora di ricominciare anche quest'anno grazie